Ben ritrovati i miei cari eventori dell'Uisona Bar Calcio. Questa sera voglio prendere in esame un allenatore che tra quelli richiesti da voi, miei carissimi, non è stato sicuramente quello più nominato, ma considerato anche che c'è più di uno che mi chiede, Luisona, ma tu quale preferisci tra questi nominativi che stai facendo? Ce l'hai una preferenza? Allora, la mia preferenza la esplico questa sera con questo nome che forse per i più sarà un nome clamoroso che non avrebbero mai pensato che io potessi fare, però adesso faccio tutto un discorso e cercherò di farvi capire perché sono arrivato alla conclusione che Paolo Vanoli possa essere il nome giusto per guidare il Bologna Football Club. Bene, quindi se volete sapere le motivazioni e scoprire chi è Paolo Vanoli, rimanete adesi coesi a questo video, iscrizione prima cosa, condivisione seconda, fatelo ad arrivare in dirigenza, fatelo arrivare a Sartori, a Saputo, a Fenucci, a Divaio, chi li conosce glielo spammi, glielo mandi e mettete il mi piacino al video dell'Uisona, permesso e concesso, grazie. Allora, Paolo Vanoli, anni 51, quindi piena maturazione per quanto riguarda l'uomo e anche comunque esperienza, perché? Perché se si va a vedere in maniera fugace, veloce, la carriera d'allenatore, sembra una carriera cortissima, solo pochissime esperienze, quest'ultima che sta maturando col Venezia, prima con lo Spartak e poi poco altro. In realtà non è proprio così, in quanto è già dal 2007, in realtà, che Paolo Vanoli sta facendo della gavetta, in quanto ha iniziato nei bassissimi fondi, nella Serie D, con il Domegliara, ok, da 2007 al 2009, appunto, al Domegliara. Dopodiché è cominciato tutta una lunga trafila nell'Italia, a partire dall'Under 16, passando per la 17, la 18, la 19 e anche un brevissimo assaggio, sempre da collaboratore tecnico, stiamo parlando, attenzione, da collaboratore tecnico, nell'Italia maggiore 2016-2017, nelle nazionaline minori, penso quella 19, Andrea 19, ha raggiunto anche una finale, seppur ai noi persa, ma anche una finale. Dopodiché, dopo di che, ha iniziato a collaborare, quindi sempre da collaboratore tecnico, da assistente, con Antonio Conte, prima al Chelsea, e poi l'ha seguito all'Inter, dove sappiamo tutti l'Inter di Antonio Conte, quale epilogo ha avuto, cioè vittorioso. Ecco, come assistente, come collaboratore tecnico, c'era Paolo Vanoli, così come c'era al Chelsea, sempre con Conte. Dopo l'esperienza con Conte, una volta che termina quella con l'Inter, Paolo Vanoli decide che è arrivato il momento di iniziare la carriera d'allenatore da solo, appunto, smettendo i panni del collaboratore. Dunque, ottiene il 17 dicembre 2021 la sua prima panchina d'allenatore dello Spartak di Mosca, dove, tra l'altro, alla sua pronti via vince la Coppa di Russia. Poi, però, non vi rimarrà, per le notti vicissitudini del conflitto russo-ucraino che hanno fatto propendere e decidere saggiamente a Paolo Vanoli di andare altrove. L'altrove lo trova il 7 novembre 2022 quando il Venezia Calcio gli offre una panchina bollente, bollente, perché ascoltate quello che vi sto per dire. Arriva dopo 12 partite dal campionato iniziato con il Venezia che era in Serie B penultimo con 9 punti. Ricordo quel Venezia che era retrocesso l'anno prima dall'A alla B e che si ritrovava dunque penultimo in B con 9 punti dopo 12 partite. Chiamano Paolo Vanoli. Paolo Vanoli non si prende paura e porta quella squadra all'ottavo posto. Quindi ha fatto un super mega lavoro l'anno dopo, cioè questo. Stagione 23-24 si ripeterà perché con il Venezia arriverà terzo in classifica e sappiamo tutti, ieri tra l'altro si è giocato il play-off finale d'andata per la tra Cremonese e Venezia finito 0-0 e nei prossimissimi giorni ci sarà il ritorno in casa proprio del Venezia a cui auguriamo a Paolo Vanoli di riuscire ad ottenere la meritata Serie A. Ricordo tra parentesi tra le fila del Venezia esserci a centrocampo quel testman di cui Sartori stiva. Detto questo quindi abbiamo fatto un ricapitolo della carriera di Paolo Vanoli che già a prima acchietto dunque vediamo note positive e note negative. Note positive sicuramente che ovunque egli sia andato è riuscito ad emergere a emergere anche in situazioni di estrema difficoltà. Nota negativa è che è un allenatore che ha poca esperienza per quanto concerne la gestione di una squadra che possa essere impegnata su più fronti o perlomeno anche qua apriamo un distingo in realtà ce l'ha da collaboratore tecnico da assistente di Conte ce ne ha e a Iosa da quel punto di vista però se vogliamo guardare da allenatore cioè lui il primo a decidere allora la cosa cambia però ha maturato l'esperienza in realtà nel triplice confronto Coppa Italia campionato e Coppe Champions League per l'appunto quindi anche qua insomma dipende come la si voglia guardare ma che calcio propone Paolo Vanoli allora Paolo Vanoli nonostante non sia magari di un'età giovanissima come come si può citare che ne so lo stesso Tiago Motta come si può citare Palladino Gilardino quindi non faccia parte della nuovissima generazione perché ha 51 anni lo ripeto però una caratteristica di Paolo Vanoli è che fa un calcio moderno un calcio dove la parola d'ordine è fluidità non è ancorato infatti ad un solo sistema di gioco ma vaglia a secondo del materiale di cui lui ha a disposizione e quindi è flessibile ha infatti usato diversi sistemi di gioco passando anche dalla difesa 3 alla difesa a 4 li conosce tutti i sistemi di gioco adesso usa come modulo base il 433 che poi può diventare 442 o 4231 ma il modulo base è il 433 quindi ci sarebbe una sorta di continuità rispetto al valore rispetto al valore al lavoro e anche al valore ottenuto da Tiago Motta al Bologna in questi ultimi due anni principi basi principi base della concessione di calcio di Paolo Vanoli sono velocità possesso e pressione avversaria dedita al recupero del pallone gli piace fare densità nella zona palla porta i centrocampisti in aria e chiede loro incursioni continue e usa molto gli esterni che infatti spingono come dei treni non a caso in Serie B quest'anno ha ottenuto il migliore attacco di tutta la B 69 reti fatte a fronte di 46 subiti che nota del direttore qui presente è l'ottava miglior difesa ma c'ha un differenziale reti fatti subiti con un bel più 23 che è il differenziale secondo migliore di tutta la B dietro solo al Parma questo dunque è Paolo Vanoli Paolo Vanoli che voglio aggiungere ho ascoltato più volte in conferenza nelle dichiarazioni post partita ed è una persona di un'intelligenza e di un'umiltà da fare chapeau da fare chapeau lo ripeto l'ho ascoltato è di una intelligenza e di un'umiltà da fare chapeau tra l'altro come tonalità intonazione di voce timbro ricorda persino vagamente in certe situazioni Giampiero Gasperini mi sembra quasi lo stesso sembra quasi di sentirlo di sentir parlare Gasperini certe volte a me Paolo Vanoli piace molto e lo vedo anche come la figura ideale per portare questo Bologna a nuovo entusiasmo un allenatore che non ti aspetti sarebbe una sartoriata perché io dico il Bologna ha bisogno di questo perché andare a prendere un italiano che tra l'altro è deluso da quello che comunque ha maturato in questi anni a Firenze tra i finali tutte e tre perse è un profilo comunque che dal punto di vista del gioco non va e rischia secondo me anche alla luce di quello che ha maturato Tiago Motta in queste due annate pregresse di andare immediatamente nella sua ombra e di finire molto male cosa che invece partendo con un grido magari inferiore all'inizio Paolo Vanoli secondo me non subirebbe perché Paolo Vanoli vedrebbe questa come quasi secondo me un'occasione l'occasione l'opportunità di cui Tiago Motta tra l'altro parlava spesso cosa che invece italiano non valirebbe come un'opportunità ma come un rischio un rischio di confermarsi e di rilanciarsi ulteriormente mentre per Paolo Vanoli sarebbe unicamente un'opportunità e io valutandone anche da quello che posso fare io ovviamente come posso come posso chiamarle le vibrazioni empatiche io dico che Paolo Vanoli si sposerebbe molto bene con la filosofia del Bologna e cercandone anche dare in un certo senso in un certo senso non ricalcandone ma proseguendo a suo modo il lavoro iniziato da Tiago Motta perché Paolo Vanoli mi ha dato l'idea di essere un allenatore con delle idee idee solide e che ci abbia anche un bagaglio mentale che possa tirare fuori dai giocatori nuove energie senza dover scimiotare nessun altro e quindi a mio modo di vedere Paolo Vanoli sarebbe la scelta coraggiosa se vogliamo anche incredibile che farei per il nostro Bologna che dopo 60 anni deve giocarsi la Champions League ci vedo proprio il giusto mix comunque di esperienza pregressa maturata perché voglio rimembrare quella con Antonio Conta che sicuramente è un grande allenatore da cui avrà preso sicuramente le cose migliori da prendere però mettendoci quella parte umana empatica che mi pare di aver carpito poter appartenere a quelli che a me piace definire i vatte calcistici ecco con Paolo Vanoli personalmente mi sentirei più a mio agio nell'affrontare quello che dobbiamo affrontare piuttosto che andarci a prendere un Vincenzo italiano o anche Maurizio Sari Maurizio Sari che per certi versi vedo più essersi come ho detto nei video con il carissimo Ottis aver preso la sia del Mazzarri cioè un allenatore che non si è più aggiornato un allenatore che ormai Vivacchia e a differenza di quello che invece sta facendo Pioli che più avanzano gli anni più secondo me diventa buono posto che Pioli più giovane di Sari per carità però ecco Pioli lo vedo ancora nel suo grido mentre Sari lo vedo proprio spento per cui se si deve fare una scelta coraggiosa che è quella che io farei prenderei Paolo Vanoli se proprio non si può perché si pensa ma come facciamo Champions League dopo 60 anni andiamo a prendere un profilo che era dalla B è un salto nel buio ci esponiamo a critiche incredibili nel caso dovesse andare male allora se si deve fare un'altra scelta la mia scelta probabilmente ricadrebbe su Stefano Pioli perché è vero è finita come è finita col Milan ma ha preso un campionato incredibile nel suo mezzo di cammino al Milan ed è un allenatore che secondo me vuole dimostrare di valere e secondo me ha ancora parecchio da dire e non è che ci dobbiamo ricordare i Stefano Pioli dell'epoca di quando fu a Bologna perché è un Stefano Pioli totalmente diverso mio parere però detto questo mi espongo adesso al vostro al vostro commento box commenti fatemi sapere che cosa ne pensate di tale disamina attivate il campanaccio pastorale fate girare questo video e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar Paolo Vanoli